Un summit di Camorra è stato interrotto dai carabinieri della compagnia e dalla stazione Stella nell'ambito dei servizi di contrasto alla criminalità organizzata operati al rione Sanità. Più nello specifico, dopo una serie di appostamenti, i militari hanno fatto irruzione in un palazzo di via dei Cristallini, interrompendo così una riunione a luna di notte in corso tra il capo di uno degli storici clan del rione Sanità ed altre due persone, una delle quali è stata trovata in possesso di una micidiale pistola semi-automatica. L'uomo armato aveva una Sig Pro calibro 9 che portava carica nella cintola dei pantaloni con cinque cartucce a palla camiciata nel caricatore ed è stato arrestato dopo un tentativo di fuga che si è rivelato inutile. A finire in manette è stata Antonia Attrattiva, 27enne, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine con precedenti per reati contro il patrimonio. Attrattiva è ritenuto dagli inquirenti, appartenente al clan camorristico dei Savarese, clan attivo nel rione Sanità per il controllo degli affari illeciti. Nel fuggi-fuggi generale dopo l'irruzione dei carabinieri è stato individuato e riconosciuto il capo clan, ovvero un 63enne attualmente libero, sottoposto a vigilanza dopo una condanna per 416 bis, ovvero associazione camorristica, che poi è stato trovato a casa, al piano superiore. Indagini sono tuttori in corso per accertare se l'arma rinvenuta e sequestrata nel corso del blitz sia stata usata per fatti di sangue o intimidazione e per la ricerca del terzo uomo, che risulta ancora in fuga.